Poi esci e parti diretta senza, cioè vai nella zona cambio. Sì, prendi, diciamo, lasci la muta, lasci la cuffia e occhialini, metti il casco. Io di solito lascio le scarpe da bici attaccate, però le infili al volo. Ah, cioè ma... Questa è una skill sì importante da altri atleti. Adesso domanda, va, è proprio stupidissima, ma tu ti asciughi? No. Ah, no, cioè... No, mi asciugo. No, adesso tu mi... Io sono un po' il fedez della situazione che spara, spara grossi. Ciao ragazzi e bentornati a 4 Chiacchiere al CR2 Studio. Nuova puntata, nuovo ospite. Sono veramente felice di avere qui con me la campionessa di triathlon cross, Marta Menditto. Ciao Marta. Ciao. Come stai? Bene, grazie. Tu? Grazie mille, io sto benissimo. Sono contentissimo. Benvenuta nel nostro studio. Anch'io sono veramente contenta di essere qui. Allora, mi sento già molto a mio agio. Con te abbiamo parlato un po' fuori onda e... Allora, prima di farti la classica domanda, chi è Marta Menditto? Perché se uno va sul profilo Instagram, legge la biografia e vede tantissimi titoli, tantissimi premi, però vorrei che tu spiegassi che cos'è il triathlon cross, perché molte persone magari che guardano questa puntata non sanno che cos'è il triathlon cross. Quindi se puoi fare una piccola introduzione su che cos'è il triathlon cross. Ma brevemente il triathlon cross è come il triathlon normale, quindi le distanze comunque sono più o meno le stesse, ma si corre con la mountain bike e poi appunto si corre su sterrato, quindi di solito c'è anche molto dislivello, sia in mountain si sta sui mille metri dislivello più delle volte e è tecnico ovviamente. A volte c'è il fango, dipende se piove, se non piove, cosa c'è, cosa non c'è, e stessa cosa a piedi. Quindi diciamo che brevemente è lo stessa cosa, ma con un po' di fango. Con un po' di piace, che sporca un po' il tutto, è un pochino più speciale. Ok, allora, veniamo invece alla domanda più importante. Se tu dovessi definire Marta Menditto, chi è? Che definizione daresti? Sono Marta, ho 24 anni, ho studiato geologia, mi piace molto il triathlon, ho cercato di farne non solo una passione ma anche un lavoro, ci sto provando, mi piacciono molto gli animali, ho un sacco di peluche nel letto. Bello, mi piace questo. E niente, mi piace ballare, non lo so, il resto più o meno, secondo me andando avanti scopriremo altre cose. Anche tu, anche te stessa scoprirai cose di te che non sai. Mi sembri molto solare, mi sembri una persona piena di energie. Diciamo che anche questa cosa si è sviluppata un po' negli ultimi anni, nel senso che quando ero più piccola, anche ancora da adolescente, ero molto timida, molto chiusa, non parlavo molto. Poi sì, negli ultimi tre o quattro anni, diciamo invece, dall'università in poi, ho un po' scoperto invece di essere solare, mi piace abbastanza comunque stare con la gente. Ho scoperto che ci sono delle persone comunque nel triathlon cross, nell'ixterra, nelle gare che faccio che sono come me, sono molto simili a me e quindi ho trovato degli amici, delle persone simili e sì, diciamo che mi sono un po' sbloccata negli ultimi anni e sì, adesso mi definisco una persona solare in realtà. E pensi che questo tuo sblocco sia un po' dovuto allo sport che stai facendo? Penso di sì, comunque. Sicuramente ti tempra, in un certo senso. E quindi sì, penso di sì, comunque. Forse anche conoscere delle persone così belle, o almeno io le reputo molto belle, e quindi ti fa venire voglia di scoprire, di vivere di più, diciamo. Quindi di sentire tutto di più. Ma domanda, una persona perché è bella? Cioè in che senso le reputi belle persone? Perché ti faccio una piccola premessa, io e mio fratello lavoriamo in ambito videomaking e abbiamo seguito uno dei team più forti al mondo nell'ambito dell'enduro, quindi bici, nel mondiale e è pieno di belle persone. Quindi mentre dicevi questa cosa, ho pensato alle belle persone che ho conosciuto io in questa esperienza. Quali sono le tue belle persone? Allora, io credo che comunque sia una cosa molto soggettiva a questo punto, no? Come dici tu, secondo me. Non lo so, per me, a me piacciono molto le persone che quando le conosci comunque le vedi che ti parlano e ti sorridono molto con gli occhi, come se fossero sincere, diciamo, no? Un po' solari, appunto. Sì che magari sanno metterti subito, sanno essere subito se stesse, diciamo, e non che magari ti conosci e davanti hai un po' una maschera, una facciata che dici sono così perché sono i primi cinque minuti che ti vedo e invece sei quelle persone che subito sono capaci a dirti sono io. E quindi è una cosa che mi piace molto, che apprezzo molto, perché subito anche a me viene molto facile poi essere me stessa. Se invece sento dall'altra parte che una persona è un po' forse riservata, un po' chiusa o che comunque non è come me, diciamo, no? Anch'io poi faccio fatica. Magari ci metto un po' più di tempo forse poi ad aprirmi, diciamo. Ma secondo me credo che questa cosa che tu stai dicendo è un po' legata davvero allo sport che fate. Poi ne parleremo con calma. Però il vostro è uno sport davvero difficile, almeno da fuori. Per me rappresenta uno degli sport più difficili. Tant'è vero che il triathlon normale, non so se si dice così, per esempio anche l'Ironman, cioè la parola Ironman, un po' definisce questa vostra disciplina, al di là del cross o no. Però secondo me è uno sport che ti porta talmente tanto a giocare con i tuoi limiti che a quel punto poi tutte le sovrastrutture che puoi avere le togli. Non so, forse in maniera automatica sei più te stesso perché non hai vergogna. Sì, può essere che comunque sia un bel punto di vista. Cioè, penso che tu possa aver ragione in un certo senso. Cioè, sicuramente quando lo fai come atleta, diciamo, professionale, cerchi ogni giorno di, diciamo, sovrastare i tuoi limiti. Cioè, cerchi di pensare che non ci sia un limite in un certo senso, no? Perché ogni giorno cerchi di essere migliore rispetto a ieri. Per le persone normali, secondo me, che vogliono solo fare, diciamo, triathlon, una distanza sprint, iniziare, secondo me è uno sport molto bello e anche molto alla portata in realtà. Se sai magari nuotare, perché alla fine il nuoto è un po', secondo me, forse il limite, perché se non sai nuotare devi cominciare da zero e da adulto forse è una cosa un po' più complicata. Però, se vuoi fare uno sprint e sai nuotare, io ti direi domani puoi farlo. Nel senso, non è l'Ironman che effettivamente magari devi stare in ballo 15 ore. Certo. E quindi... Quindi è uno sport che, tra virgolette, può avvicinare tutti. Sì, io credo che sia in realtà una bella alternativa ad uno sport tradizionale, perché comunque ogni giorno puoi fare uno sport diverso, nel senso che vai a lavoro, fai le tue cose e la sera nuoti. Il giorno dopo corri, il giorno dopo vai in bici. E quindi non fai mai la stessa cosa. E secondo me questa non ripetitività porta comunque ad appassionarsi, secondo me. Assolutamente, bellissimo. Però tu come ti sei avvicinata a questo sport? Ma io facevo i corsi di nuoto fino a 12 anni, poi non avevo più voglia a un certo punto. E quindi sono capitata al campo di atletica. Perché ho detto, mi piaceva correre, ho detto, vorrei fare atletica. Provo. E lì in quel contesto ho conosciuto il mio attuale allenatore. Ok. È rimasto lui. Che in quell'anno, con il presidente dell'epoca della squadra, della mia società, delle frecce bianche, avevano detto, facciamo un vivaio, un settore giovanile per i ragazzini. E quindi in realtà io, mia sorella e altri due ragazzini siano stati i primi delle frecce bianche, dei più piccolini a cominciare. Quindi un po' per, tra virgolette, non per caso, però ci sei finita. Quasi. Sì, ci sono finite, diciamo. Però diciamo, appunto, con me è stato molto bello il fatto che anche da piccolino un giorno fai una cosa, al giorno dopo ne fai un'altra, al giorno dopo ne fai un'altra ancora. E a me piaceva molto quella situazione che non devi mai fare la stessa cosa. Certo. Poi adesso in realtà faccio tutti i giorni e tutto. Quindi hai solo complicato la cosa. Esatto. Però ho cominciato, sì, effettivamente così, un po' per caso. Però invece ad appassionarti a questo sport, ti ricordi? C'è stato un momento in particolare che hai capito che questo era il tuo sport, che ti stavi appassionando. Ti faccio un esempio. Io quando salgo sulla bici e sono magari in mezzo a un bosco e ho le mani sul manubrio e vedo la ruota che appoggia sul terreno e mentre scendo sento il rumore della ruota che scorre, per molti diranno ma questo è pazzo, però a me da un sacco di emozioni. Quindi per me quello vuol dire, io ho una passione per questo sport perché quando lo faccio sto bene anche perché percepisco delle cose che forse sento solo io. Sì, ma allora io credo che tu chiedi a un qualsiasi triatleta e lui ti dice comunque il triathlon crea un po' di dipendenza e secondo me comunque è vero perché appunto è molto vario. Io mi ricordo in particolare dopo tre anni che avevo cominciato, il mio allenatore a quel tempo faceva le gare, faceva Xterra e mi aveva portato a fare l'Xterra Kid all'Xterra France perché lui doveva fare la gara e mi ricordo che quel giorno appunto avevamo guardato poi la partenza della gara insieme e c'erano i pro, gli elite e mi ricordo che quel giorno avevo visto la partenza della gara, gli atleti che si preparavano e io avevo pensato anche io un giorno voglio essere lì a fare l'elite con loro, il mio sogno mi piacerebbe partire l'elite una volta e quindi diciamo che l'Xterra France è proprio un bel ambiente, è proprio una gara molto bella, c'è tanta gente, è una bella atmosfera, poi a me il posto piace tantissimo, è sui vosgi e ci sono queste foreste che è tutto muschio per terra, è tutto verde, è bellissimo, è un po' umido, però a me piace veramente tantissimo quel posto e credo che sia stato un po' quello il momento che ho detto un giorno mi piacerebbe però avrò avuto 15 anni, quindi era molto distante come situazione e in realtà quando ho fatto il mio primo Xterra da elite non ci ho neanche più pensato. Ecco, infatti ti volevo chiedere, forward siamo al, questo è stato il tuo primo anno da elite, giusto? Sì, in realtà ho gareggiato con l'elite già da quando avevo 19 anni, quindi ormai... Perché ho letto su un articolo della stampa di Alessandria che tu hai fatto, magari un errore, non lo so, salutiamo invece della stampa di Alessandria, però hanno scritto primo anno da professionista. Sì, diciamo che... Cosa significa? Perché io ho visto che le categorie saranno under e poi c'è elite, che è quella più alta. Fondamentalmente arrivi fino a 18-19 anni sei ancora junior e sei ancora classificato come categorie giovanili. Poi tra 20, cioè tra 19 e 23, sei under 23, ma gareggi con gli elite. Quindi in realtà io fino all'anno scorso appunto ho sempre gareggiato con gli elite. Però la classifica era... Esatto, la classifica era under 23, a meno che comunque non facessi un podio con gli elite, allora lì avevi sia il podio elite che l'under 23. Quindi quest'anno che avevo 24 anni è stato il mio primo anno da elite. Ok, quindi in classifica elite. Esatto, solo elite. Però in realtà è qualche anno che gareggio con l'elite. E quindi mi dicevi che non hai ripensato a quella Marta di 15 anni. No, sul momento no. Forse l'anno scorso appunto che ho vinto l'Ixtera France da elite, poi mi è venuta in mente questa cosa, perché poi abbiamo fatto pensare... Io quell'anno avevo vinto l'Ixtera Kid. Ok. E quindi l'anno scorso vincere l'Ixtera France da elite è stato un po' il ripescaggio di quell'anno che poteva essere il 2014-2013. Bellissimo. Sì, sì, sì. Quindi è un po' per questo che vincere l'anno scorso l'Ixtera France è stato un po'... è stato importante, diciamo, perché è un po' la mia gara preferita. Mi piace molto comunque. Tra l'altro, io ti dico, ho un po' studiato per cercare di essere preparato, però non è facilissimo districarsi tra le varie competizioni a cui tu partecipi. Allora, tu fai la Coppa del Mondo, quindi su più tappe, che è l'Ixtera, giusto? Esatto. E poi hai il Campionato del Mondo, che invece è una singola gara che decreta che è il Campione del Mondo. Si chiama Ixtera World Championship. Perché poi è in concomitanza, come mi dicevi fuori camera, con l'ultima tappa delle... Delle World Cup, sì. Ok. Ci sono differenze a livello di gara, percorso, lunghezze tra la Coppa del Mondo e il Campionato del Mondiale? No, in realtà no. Però tutte le World Cup, la distanza è sempre quella, però sono tutte molto diverse tra loro. Nel senso, per esempio, la World Cup a Taiwan era una gara molto da ciclisti, non c'erano salite lunghe, faceva molto caldo, faceva veramente caldo. Siamo partite alle sei del mattino. Non ti dico fare colazione con il riso in bianco alle tre del mattino. Colazione con il riso in bianco? Sì, perché cerchiamo di mangiare le cose più semplici possibili, ma che ci diano un po' di energia comunque. E quindi il riso in bianco in teoria è... Spettacolo. Sì, veramente, magnifico. Anzi che la pasta asciutta ha finito la serata di discoteca e il riso. Esatto. Mi ricordo che siamo andati, siamo entrati in zona a cambio, che era buio, e quindi avevamo le torce del telefono per mettere le cose. Comunque era una gara molto difficile per me, diciamo, per le mie caratteristiche, perché c'erano queste salite non molto lunghe, quindi bisognava continuare a sparare, mollare, sparare, mollare. E poi a piedi era dura una roba... Dovevi andare in cima alla montagna e scendere. Erano tipo 450 metri di slivello e gli ultimi 100 metri erano incorribili. Mamma mia. Però tipo in America, la seconda tappa, invece, c'era pochissimo di slivello in bici, ma era tutto da guidare. Era tutto un single track. Magnifico, bellissimo, però era tutto da guidare, stare dentro, diventavi idiota. E a piedi, uguale. Quindi io mi ricordo che a un certo punto, dopo, non lo so, 20-30 minuti che correvo, ho pensato, ma chissà dove sono. Chissà se ho fatto 3 km, ne ho fatti 8. Perché continuavo a fare, a zigzagare, era sto single track, bellissimo, fantastico, ma non sapevi dove eri. Non capivi più niente. E poi arrivi lì che comunque sei in totale fase, come si dice, non aerobica, acido lattico, a stecca. Esatto. Quindi probabilmente non capisci veramente poi quello che sta succedendo. Esatto. E ti voglio chiedere, qual è dei tre sport, quindi nuoto, bici e corsa, quello che preferisci o quello che senti più nelle tue corde? A me piace molto correre, comunque. E mi piace molto correre fuori strada, comunque. La corsa in montagna mi piace veramente tanto. Ok. Tu conosci le Vertical Run? Sì. Hai mai partecipato? Avevo fatto qualcosa qualche anno fa, come allenamento, c'erano le Vertical Sunset, non so se di là verso le Alpi Piemonte, ma non mi ricordo più, magari, non mi ricordo in Val di Susa, magari, comunque quelle vallette lì. Ce n'era una in ogni valle, mi sembra, e quindi qualcosa avevo fatto. Quelli sono matti, bene anche loro. A me piacciono molto, però. Ma è tostissimo. Io ho visto una gara a Cervigna, che salivano su in cima all'Oriondè, e io quel giro lì lo facevo a piedi, facendo anche della fatica, e così via, correvano su, diciamo che sono pazzi. A me piace tantissimo, però. Eh no, ma capisco, poi il fatto che tu faccia triathlon cross, proprio significa che ti piace stare nello sporco, come hai detto tu all'inizio. Sì, poi in realtà i miei genitori mi hanno sempre portato in montagna, non siamo mai andati al mare in vacanza, siamo sempre andati in montagna, quindi magari anche un po' quello e tutto. Vabbè, devi piacere, se ti piace il mare, ti piace il mare. Però a me è sempre piaciuta molto la montagna, cioè mi piacerebbe andare a vivere in montagna, spero un giorno di riuscire a prendere una baita sulla cima. Non ti rompe le balle a nessuno. Esattamente. L'obiettivo numero uno è quello. Ci porti con te in una tua gara? Siamo con te. Quindi noi arriviamo, facciamo quello che devi fare, però il giorno prima della gara che cosa fai? Alla sera? A che dove vai a dormire, per esempio? Dipende. A Taiwan che si parte alle sei, alle nove. Ok. Cerco di andare a dormire. Sennò, in generale, le gare partono sempre intorno alle dieci, le undici del mattino. Di solito, non sono mai in orari estremi. Quindi alla fine, verso le dieci, comunque. Ok, quindi comunque nel senso, non sei di quella schiera di atleti che te ne freghi, ma se io vado a dormire quando voglio, faccio tardi. No, no, stiamo attenti a tutti i dettagli. Perché? Soprattutto quando si tratta di una workup, che comunque ci sono dei punti in ballo per un titolo, non lasciamo veramente niente al caso. Ok. Sveglia? Sveglia. Colazione con riso? Colazione con riso, un po' di frutta secca, un po' di prosciutto nel riso. Però poi in realtà io sono in un team francese. Ok. Quindi tutti gli italiani che staranno guardando quello che sto dicendo mi staranno facendo, però io purtroppo sono tre anni che sono in un team francese, quindi la mia alimentazione... Purtroppo, occhio a quello che dici che poi devi tornare là, e lo capiscono l'italiano. La mia alimentazione è diventata francese, mia sorella dice che la mia colazione fa schifo, è disgustosa, ieri mattina gli ha fatto la foto perché era veramente così disgustata che adesso non è possibile. Non stento a credere. No, vabbè, erano solo delle uova con un po' di prosciutto, un po' di frutta secca, una mozzarella nel senso, c'erano solo un po' di tutto nello stesso piatto. Ok. Quindi colazione comunque di solito con il riso, appunto, e poi di solito le cose le preparo la sera prima. C'è lo zaino, comunque con le cose da portare in zona cambio, la bici si prepara il giorno prima, deve essere tutta perfetta, tutta ogliata. Certo. E con tutte le cose, diciamo, dietro, che ci portiamo dietro nel caso dovessimo bucare, quindi la bici è già tutto fatto. E di solito metto sul body, mi preparo e poi vado in zona cambio. E come ti concentri? Cioè, ascolti la musica, non ascolti la musica, sparo, fai meditazione? La meditazione magari uno o due giorni prima. Ok. Tu mediti di tuo? Sì, ogni tanto sì. Cioè, mi piace comunque. Io sto iniziando. È molto bello. Sì? Lo sto facendo con un'applicazione. Volevo provare, quindi sto imparando, sono molto all'inizio. E non è facile? Non è facile, no. Non è facile. Io di solito, se ho un po' di tempo che non medito più, comincio magari ascoltando qualche video. Ok. E poi, dopo due o tre volte che mi riabituo, diciamo, a farlo, riesco a farlo anche da sola, però ho una mia costruzione mentale, diciamo, nel senso che ho un mio posto. Ok. Che non esiste, ovviamente, però dove andare quando faccio la meditazione, diciamo. Ok. E riesci a isolarti anche senza mettere le cuffie? Ma prima delle gare mi piace fare una, non proprio, non so se chiamarla meditazione, perché la mattina della gara o la sera prima cerco, diciamo, di isolarmi, di andare nel mio mondo, ma uso la musica, perché mi piace molto visualizzare la mia gara. Ok. Nel senso che io cerco di visualizzare già il giorno prima o la mattina, dipende quando è la gara, se è il pomeriggio o la mattina, di visualizzare già quello che farò in gara, nel senso di visualizzare diversi scenari di come sarà il nuoto e di cosa potrebbe succedere in bici e di corsa, perché mi piace anche visualizzare già, diciamo, la fatica che farò. Ok. Perché se visualizzo la fatica prima mi sembra di averla già fatta quando poi sono lì. Cioè è come se l'accettassi già prima di partire? È come se l'avessi già vissuta, è come se l'avessi già, è come se avessi fatto un sogno, l'avessi già vissuta e il giorno dopo mi ci trovo dentro. Poi tante volte gli scenari non sono poi quelli, no? Però mi trovo più pronta ad affrontare la fatica, il dolore, la sofferenza durante la gara, diciamo. Ok. Però mi piace farlo con la musica, invece quando medito fuori dalle competizioni senza niente, sì. Ok, quindi una volta che ti sei, diciamo, hai visualizzato la tua gara, ti tocca partire per davvero? Sì, diciamo che questo lo faccio ancora a casa. Poi si va in zona cambio e in zona cambio tu devi lasciare tutte le cose che ti servono per la tua gara. Quindi metti la bici, ovviamente tu hai un numero, ci sono queste rastrelliere dove tu metti la bici al tuo numero. Quindi lasci la bici, lasci il casco, lasci le scarpe da bici, le scarpe da correre, i gel, tutto quelli che può servirti fondamentalmente e poi normalmente, non so, lasci lo zaino e vai a cominci a fare il riscaldamento. A volte corro, ma di solito preferisco fare un po' di riscaldamento a secco per le spalle e cose così e poi di solito nuoto. Ok. Preferisco nuotare in realtà prima delle gare. Ok. In realtà ci sono persone che gli piace pedalare prima come riscaldamento, quindi è un po' soggettivo. Ok, però una volta che entri in acqua poi rimani lì, perché parti col nuoto? Si parte col nuoto, però tu fondamentalmente puoi fare il tuo riscaldamento, nuoti, poi esci, esci, poi non so, mancano… Scusa, sono quasi domande magari stupide, ma… Di solito non so, magari, tante volte usiamo la muta, per farci un esempio, metti sulla muta, magari hai già fatto un po' di riscaldamento, entri in acqua, fai i tuoi 15 minuti di riscaldamento, una cosa del genere, esci, solitamente mancano ancora 10-15 minuti alla partenza, io di solito prendo un gel, prendo la partenza e poi magari c'è una camera, diciamo, di chiamata, poi fanno l'appello, nel senso chiamano, dicono a lui, ti mettono tutti in fila e poi c'è lo start. Ok. Ok. E una volta che c'è lo start, quanti chilometri devi fare? I chilometri? Metri? 1.500 metri. Ok, 1.500 metri. Poi esci e parti diretta senza… cioè, vai nella zona cambio. Sì, prendi, diciamo, lasci la muta, lasci la cuffia e occhialini, metti il casco, io di solito lascio le scarpe da bici attaccate, per lei le infili al volo. Ah, cioè, ma… Questa è una skill sì importante da altri atleti. Ma io… ma è perché, poi, cioè, una gara si può giocare anche sul secondo? Sì. Allora, gli short track, che sono quelle molto veloci, da 40 minuti, conta tutto, conta veramente tutto. Sul full, comunque, mi sono trovata tante volte in situazioni dove, per non perdere un gruppo, mi è servito avere le scarpe agganciate e essere capace a metterle al volo. Sì, 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 sì. Adesso domanda, va, proprio stupidissima, ma tu ti asciughi? Ah, no, cioè… No, mi asciugo. No, adesso tu mi… Io sono un po' il fedez della situazione che spara, spara grossi, però, cioè, tu, da bagnata, arrivi, ti levi le cuffie tocchialini… In generale, comunque, è uno sport estivo, ma a Molveno, per esempio, l'anno scorso al Mondiale, il giorno prima, sulle cime ha nevicato, quindi… No. Sì, l'anno scorso siamo uccidi all'acqua e ci siamo messi una maglia da bici a maniche lunghe su, perché faceva troppo freddo. Però, se no, in generale, non hai mai freddo. Ok. No, io non hai mai testa… Mi immaginavo che se andando in una gara comunque su lunghe distanze, in generale, avessi il tempo, non ti dico di berti un caffè, però di asciugarti per essere al top… No, quando sei elite è veramente tutto il secondo, e quindi è tutto importante. Quindi sali in bici, quanti chilometri? Tra i 30 e i 38, 35. Ok, pazzesco. Vaglia un po'. E ti piace di più pedalare in salita, fare la discesa? Sì, io sono 45 kg, quindi la salita mi piace molto. Ok. Però mi piace molto anche la discesa, è il piatto che mi dà fastidio, diciamo, dove mi fanno veramente far fatica. Però, in generale, sono fortunata, nel senso che di solito abbiamo 1000-1200 metri di dislivello. Ok, ok. Quindi… Pedali tanto. Sì, più tanto a salita. E aspetto difficile del nuoto che non ti ho chiesto prima? Una cosa che… A volte l'acqua è molto fredda, quindi è anche importante entrare in acqua prima, fare un po' l'acclimatamento. Bisogna anche essere capaci sia a nuotare con la muta che senza, perché comunque è una nuotata un po' differente. Senti meno acqua davanti quando hai la muta, quindi devi avere tanta sensibilità, devi essere capace a stare in scia, a stare in gruppo, prendi tante botte. Ma sì? Sì, in partenza sì. Ma involontaria? Sì, sì, involontaria, però magari parte in 50 tutte insieme e le femmine sono meno pesante e soprattutto negli short track in realtà, che sono 400 metri di nuoto, lì le botte le devi mettere in conto, cioè proprio fanno parte della gara. Ok. Quindi sì, però insomma… E invece nella bici? Vabbè, se mi dici che preferisci la salita, però hai una cosa che proprio non… Dici no, questa cosa qua no. Quando so che ne so, per esempio, si stanno un po', no, non lamentando, cioè dato di fatto nel cross country le piste stanno diventando molto toste, cioè fanno dei grossi drop in discesa con delle bici che non sono progettate per fare quelle cose, nel tuo caso c'è un qualcosa che non ti piace, non so, le radici non ti piacciono, le pietre, la terra smossa, la polvere, o bene o mai tu ti adatti un po' a tutto? No, in generale cerco di essere, diciamo, pronta su tutto. Diciamo che il fango fango, nel senso che il fango è quello che si incolla, l'argilla, quello è complicato da gestire, nel senso, l'anno scorso al mondiale c'era fango vero, ma c'era veramente tanto fango, e al secondo giro erano già passati anche gli age group che erano partiti dopo di noi, ma li abbiamo beccati al secondo giro, e quindi c'erano stati mille passaggi. Quindi canali. No, ma avevo la bici che invece che pesava 10 kg ne pesava 20 perché si era tutto incollato e non giravano più le ruote. Pazzesco. Quindi è stato tosto lì. Lì è stata tosta. Invece quest'anno c'era fango, perché comunque ha piovuto due o tre giorni, ma era molto vicido, quindi in salita in realtà sono stata molto contenta perché la scelta dei copertoni è stata strazzeccata, e infatti ho guadagnato tanto in salita quest'anno sulle due ragazze che erano con me, perché io stavo in bici e loro scendevano. Poi è anche tecnica, nel senso... Assolutamente. Gambe, tante cose, però anche la scelta del pneumatico tante volte è decisiva. Ti fa la differenza. Ma tra l'altro c'è, io sto pensando, ok, tu sei un atleta professionista di triathlon cross, che significa essere un atleta professionista del nuoto, della bici e della corsa. E della bici non hai solo il corpo da gestire, ma hai un mezzo. Sì. Quindi devi avere la bici settata in una certa maniera, quindi devi girare tanto in bici per capire come la vuoi settata, il manodoro un po' più alto, un po' più basso, la sella un po' più alta, un po' più bassa. Come ti trovi, diciamo, in questo ruolo, come te lo senti? Cioè ti piace gestire la bicicletta, sistemare col tuo meccanico, o con chi, insomma, si prende cura della bici? No, a me piace molto, diciamo, il mezzo meccanico, proprio della bicicletta. E proviamo tante volte il percorso prima della gara, proprio anche per provare diverse condizioni, perché a volte arrivi a lunedì, prima della gara è secco. Piove, diventa bagnato, ed è un altro percorso. Magari ci metti mezz'ora in più su già due ore di gara, di bici proprio, in sé. A me piace molto provare questa cosa. Il mio allenatore, che è anche il mio meccanico, è un santo, nel senso che tante volte fa lui magari appunto il settaggio degli ammortizzatori, scegliamo insieme il pneumatico. A me piace essere presente in queste scelte, vedere le cose, scegliere se mettere la Fox o la RockShox, nel senso... Quale ti piace di più? La Fox. Ok, va perché è più bella. Mi dispiace. Salutiamo gli amici di RockShox? Salutiamo, ho provato la... Che comunque non sono sponsor, quindi possono andare pure... Ma neanche Fox, probabilmente. No, però Scott è sponsor. Ah, ok, quindi Scott, beh, belle bici. Sì, 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 no, mi trovo molto bene. In realtà sono con Scott dal 2017, quando ero ancora piccola, ero ancora categoria giovanile e tutto, e proprio sarà, non so, sarà un mese che ho fatto un post, perché sono andata poi a trovarli e tutto, fine stagione, per programmare la stagione nuova, e ormai dal 2017 che sono con loro, quindi è stato... Che bello. Sì, è molto bello. Cioè senti la fiducia da parte di un'azienda così importante. Sì, 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 sì. Poi loro sono molto bravi, è veramente come essere molto in famiglia, quindi sono veramente contenta di essere in Scott, quello sì. E quindi no, preferisco la Fox comunque. La trovo più morbida. Ok, sì. Poi non lo so, magari... Io ho anche avuto magari difficoltà, perché io peso 45 kg, e le forcelle in realtà tante volte partono da un settaggio per 60 kg. E quindi trovare anche il settaggio giusto è complicato. Quindi comunque col mio allenatore appunto guardiamo veramente tutto. Cioè ho dovuto anche tagliare il manubrio per dire, perché appunto sono piccolina, andavo in giro così. Il manubrio da 80. Sì, non passavo tra gli alberi, anche nelle foto ero tipo così, non era bellissimo, no? E mi trovavo molto meglio dopo aver tagliato il manubrio comunque. Bello, bello, giusto, giusto. E la lunghezza delle pedivelle. Perché puoi toccare, puoi toccare sotto. Sì, poi in realtà anche per la fluidità della pedalata, io le bici comunque in generale escono con o 170 mm o 175 mm. Io pedalo a 165 mm. E quindi anche quello importante, il controllo di potenza, le ruote, ruote un po' più leggere, ruote un po' più morbide, dipende anche dai percorsi, dai terreni, tante cose, no? Certo. E quindi ci sono tante cose da guardare, tante cose che sono importanti. Finisci il giro in bici, abbiamo capito che non puoi farti una doccia, non puoi cambiarti, prendi un caffè, quindi arrivi sporca di fango che ti sei appiccicata anche dall'acqua dell'acqua, dall'acqua dell'acqua, e ti metti le scarpe, quelle lì te le devi togliere. Eh, lasciamo la bici. Lasciamo la bici. Togli il casco. Però non ti levi le scarpe. No, le scarpe, allora, le lasci nelle pedali. Esatto, prima di scendere dalla bicicletta... Non è vero. Eh, non è vero, ti faccio vedere un video, sì, è vero. Cioè tu arrivi e lì vi già i piedi quando sei tipo al traguardo della bici. Sì, sì, tu prima, diciamo che anche quello lo impari nel senso, mentre stai pedalando, stai facendo gli ultimi 200 metri, slacci le scarpe e fai gli ultimi 100 metri pedalando con i piedi nudi sopra le scarpe. E quindi così quando entri in zona cambio lasci la bici e devi solo mettere le scarpe e non toglierle. Ok. E lì parti e quanti chilometri fai di corsa? Dieci. Dieci chilometri. Sì. E quando inizi a correre? Sì. I pensieri non sono positivi di solito. Esatto, cioè quella domanda è sei più, cioè pensi sono quasi alla fine oppure porca puttana ancora dieci chilometri di corsa? La seconda, poi dipende dal percorso però e dipende anche dalla giornata, in che posizione sei, durante la gara. Ecco, tu puoi avere un feedback sulla tua posizione al tempo reale? Sì, sì, quello sì, di solito sì. Ma costantemente o quando arrivi al termine di ogni prova? No, nel senso dipende anche lì se il giro in bici è giro unico o è doppio giro. Ah, ok, sì. E in realtà il mio allenatore di solito riesce a muoversi con la bici e se è doppio giro magari anche uno o due volte a giro riesco a vederlo e mi dice che hai guadagnato 30 secondi da una, ne hai persi 30 dall'altra, guarda che hai perso un minuto, guarda che ne hai guadagnato uno. E questo ti dà, scusami se ti interrompo, cioè ti aiuta? Se lo fai evidentemente ti aiuta. In generale aiuta. Però se ti dice sta andando male? Però una volta, infatti all'arrivo gli ho detto ma scusa ma non puoi girmi queste cose, per favore. L'anno scorso in Stara Belgio, mi ricordo che a inizio secondo giro mi sembra, o forse metà primo giro, non mi ricordo, lui mi fa guarda che hai quattro minuti dalla prima. E io volevo dire, poi ero a blocco, non ho detto niente, volevo dire guarda che potevi anche evitare di dirmelo. Perché tanto erano influenti. Quattro minuti, sono tanti quattro minuti, no? Poi ho vinto, però quando sono arrivato gli ho detto, la prossima volta, se ho quattro minuti, non dirmelo. O inventa, oppure non dire niente. Non lo so. Non lo so, guarda, ho perso il tempo, nel senso. Quindi, no, però in generale fa bene avere i distacchi, così almeno è una visione più generale. Perché anche lì tante volte in un percorso, per esempio, come quello in America, che ci sono mille curve, magari è una persona che è davanti 20 secondi e non la vedi. E non la vedi. E quindi tante volte il riferimento visivo è importantissimo. Perché dici, però è lì, è lì, la devo prendere. Se ti aiuta magari a dare ancora qualcosa di più. Tantissimo, tantissimo. Solo che veramente quei percorsi così in discesa, anche, sono talmente dilazionati gli spazi, che lei è dopo la curva, 8 secondi e non la vedi. E quindi a volte dici, cavolo, non ho ancora visto nessuno, è già passata mezz'ora di bici, non sono ancora rientrata, magari avevi un minuto, magari stai rientrando, però ti viene da mollare, beh, cavolo, non sono ancora rientrata, non finisci più. E no, è molto importante avere qualcuno fuori che ti dice come sta andando la gara, per avere una visione più generale di tutto. E quindi invece poi la parte di corsa, mi dicevi che ti piace correre, che forse è un po' più il tuo? Però è comunque diverso correre dopo la bici piuttosto che correre... Dopo il nuoto? No, correre normalmente. Ah, ok, in generale. Sì, è proprio uno sforzo diverso. Infatti ci abituiamo tanto noi a fare tanti combinati, li chiamiamo in allenamento. Quindi fai l'allenamento in bici, arrivi a casa, lasci la bici e corri. Ok. A me non piacciono i combinati, mi piace correre nel tagliato ma non mi piace allenare i combinati in realtà. Ma quando inizi la gara, dice quando inizi la gara, quando inizi a correre, il tuo corpo che cosa ti dice? Cioè, a me è successo di fare magari delle gare o delle prestazioni su un lungo periodo, su un lungo tempo, diciamo, e a un certo punto non ne puoi più. Lì dipende tanto da come stai quella giornata anche. Perché a me è capitato dei giorni che scendi dalla bici e stai bene, bene per modo di dire, e dei giorni che invece scendi dalla bici e sei finito. E in quei casi che cosa ti dà la forza? Tu mi dirai, sei un'altra professionista, ti alleni in quello, quindi parti e vai. Non lo so, sinceramente. Nel senso, sei in gara. Devi dare tutto. Sì, devi farlo. Quindi, cioè, che tu stia male o che tu stia bene, non è che c'è mollo o non mollo. Devi andare, fine. Secondo me la cosa difficile del tuo sport è che hai due fini, cioè hai due, sì, due fini di due gare e hai tre inizi, cioè hai tre partenze. E quindi, cioè, mentalmente non so, io non ho mai fatto il tuo sport, quindi magari non è così, però hai fatto magari benissimo nuoto, quindi sei contentissima e vai, parto, faccio la bici. Magari la bici va malissimo, quindi puoi avere sbalzi di umore durante l'arco della giornata. L'aspetto mentale è importantissimo. È importantissimo veramente a volte mettere il paraocchi, dire mi sta passando, non importa, perché magari anche durante due ore di bici, no? Perché la bici dura due ore più o meno. Una ragazza va fortissimo la prima ora, ti stacca e dopo un'ora rientri. E quindi è veramente importantissimo farsi i fatti propri, tante volte bisogna guardare anche gli altri, ma rimanere concentrati su se stessi, andare a blocco e dire vado fino alla fine. Perché io, per esempio, a Oak Mountain in America ho fatto un bel nuoto. La bici era appena subito dopo la laurea, non ero riuscita ad allenarla così bene. Sono scesa quinta dalla bici o sesta e veramente l'ultima mezz'ora non ne potevo più. Però poi ho corso benissimo, ho fatto seconda. Ho corso da Dio, cioè ho proprio corso bene. E quindi... Hai tantissimi sbalzi, impari a riconoscere e a gestirli. Però devi veramente rimanere concentrato. L'aspetto mentale è importantissimo, quello sì. E quando termini la corsa che sarà appunto salita e discesa nello sterrato, quindi anche lì devi stare attento a dove appoggi i piedi. Sì, è tecnico anche lì, sì. E qual è la parte più difficile della corsa? Al di là del fiato, della resistenza, qual è la cosa che secondo te una persona esterna non può vedere che è difficile? Tanti punti della gara comunque non li vedi. Magari vedi l'inizio e la fine, che normalmente magari sono o su asfalto, o su sterrato facile. E poi magari entri nel bosco, c'è il disastro, i bombardamenti di Kabul, c'è tutte queste cose. Cosa è successo qua? Sì, esatto. Tutti con le ruspe hanno fatto un po' di casino. Sì, sì, magari anche quando usciamo dall'acqua siamo tutti belli puliti, torniamo dalla bici, siamo marroni, non ci riconosce più la mamma, cose così, no? Quindi... Mamme che abbracciano figlie che non sono tu. Ah, non è mia figlia, scusa. Esatto. Una roba del genere comunque. Però sì, anche a piedi, a volte sono molto tecniche, a volte sono un po' meno tecniche, sono più corribili, a volte c'è tanta salita, a volte ce n'è meno. È bello anche per questo che sia vario, secondo me, sulle sette prove di World Cup, ogni gara devi essere capace a interpretare la gara e avere delle cose differenti, essere capace di essere capace di andare forte sia in salita lunga sia in salita breve, in discesa, nel taxi. Cioè devi gestire la tua prestazione in base alla gara, diciamo. E quando arrivi in fondo, facciamo finta che sta andando opzione A, sta andando forte e lo sai, sei sul podio, ok? Poi prima, seconda, comunque insomma sei lì. Che cosa provi quando sei arrivata, che vedi il traguardo? Che cosa pensi, cosa ti viene in mente se pensi qualcosa o se hai talmente il cervello in apnea che non pensi niente? Ecco, adesso dire che penso qualcosa, non lo so, è più un mix di emozioni, se sei andata bene, comunque solitamente sei subito felice. E se è andata male, se è andata male, boh, di solito si cerca di stare tranquilli e si tirano poi le somme dopo. Ok. Però ecco, dipende. Quindi non trai, tra virgolette, conclusioni subito appena passi il traguardo, cioè cerchi di pensare alla mente fredda? Io sì, il mio allenatore è un po' più impulsivo a volte. Ok, ma questo pensi che sia dovuto anche un po' al fatto che mediti? Cioè il fatto che riesci a guardare le cose con un po' più di distacco o comunque non trai conclusioni affrettate? Ma ho notato che comunque con l'età, con l'età... Questo non ti è uscita bene, sei un 99, non puoi dire... Con l'età comunque sto diventando più riflessiva, con l'esperienza, sto diventando più riflessiva comunque. Dunque cerco di vedere le cose ancora più in maniera aperta e cercare di vedere tutti i punti di vista, nel senso, sono andata male lì, ci lavorerò, nel senso. Poi ci sta, secondo me, cioè secondo me è assolutamente comprensibile essere incazzati dopo una gara che è andata male. Ok, certo. E in generale a me... Oggi più di così non potevo fare. Quindi cerco di arrivare comunque in generale all'arrivo con quella convinzione. Non potevo fare più di così, non potevo togliere neanche 30 secondi, è andata bene, è andata male, è uguale. Sì, sì, lo accetti. Sì, sì, una roba del genere. E parlando un secondo dei tuoi ottimi risultati, cioè diciamolo tu sei un'atleta di punta di questo sport. Non mi sembra minimamente che tu questa cosa la percepisci come una pressione, così a pelle. Mi sembra che tu te la vivisi. Cioè, questo è lo sport che ti piace fare, lo fai, punto. Ti fai il culo, per l'amore di Dio. Però non vedo, non percepisco questa... una pressione su di te. Non so come dire. Magari mi sbaglio, la senti, la percepisci. No, in realtà è perché mi sembra ancora di avere tanta strada da fare. Cioè, è vero, ho avuto dei risultati e sicuramente i risultati aiutano, il morale aiutano per andare avanti, tante cose. E però mi sembra di avere ancora veramente tante cose davanti, cioè di non essere la più brava, nel senso... Poi magari è brutto di essere la più brava, non lo so. Però mi sembra veramente che mi manchi ancora tante, tante cose da fare. E quindi non riesco a dire, ah, ho raggiunto veramente il massimo livello e quindi... Perché per te c'è ancora stata da fare. Sì, sicuramente. Però io conosco atleti professionisti italiani che magari gareggiano in ambito mondiale e magari si giocano anche in posizioni importanti e so che quante pressioni o quanti pensieri ci possono essere attorno ad un atleta, gli sponsor. Perché poi comunque tu non è che vivi di aria, cioè devi anche mangiare, devi pagare gli affitti, insomma hai delle spese. È buona esperanza. Esatto. Che voglio dire, se fosse qui sarebbe bellissimo, ma non è così. Quindi, insomma, in gioco tu non hai solamente una medaglia, ma hai una carriera. Sì, sì. E tu riesci però, a quanto pare, a isolarti da questi altri aspetti, non sportivi, non agonistici, tra virgolette. Allora, dopo la laurea ho avuto un periodo molto buio. Già il fatto che ti metti così sembra una saluta dallo psicologo. Il divano c'è, manco lo psicologo, ci posso improvvisare un altro. Ho avuto un periodo molto buio dopo la laurea, nel senso che mi sono veramente lo scorso inverno dedicata alla laurea. Perché volevo prenderla e volevo avere l'estate libera e non ne potevo più, sinceramente. E quindi ad aprile mi sono laureata, ma per laurearmi ad aprile ho veramente dedicato molto più tempo a studiare, piuttosto che allo sport. E quindi sono arrivata alle prime gare che non ero per niente preparata. Oltretutto sono nate le World Cup e quindi le altre ragazze erano super, super in forma. E quindi in realtà le prime gare ho preso delle mazzate a destra e a sinistra, importanti. E sinceramente mi sembrava anche a me di non essere più capace a fare quello che facevo l'anno prima. Ok. E dicevo, ah sì, però l'anno scorso ho fatto questo, ho fatto l'altro, andavo così, andavo cosà, quella la battevo, quella non la battevo. Perché poi vengono fuori mille pensieri, cioè... E che cosa ti ha, tra virgolette, salvato o che cos'è che ti ha dato la forza per andare al di là di questi pensieri? Diciamo che sono arrivata poi a giugno, dove finiva la prima parte del World Cup, quindi la prima parte di stagione. Ho staccato completamente, cioè fino a quel momento ho detto, cerco di impegnarmi il più possibile per fare il possibile. Però mi pesava quasi gareggiare, mi pesava gareggiare in quelle condizioni, sinceramente, perché sentivo che non mi ero potuta preparare al meglio. Mi sembrava come di non avere le carte per essere in mezzo a tutte le altre. E quindi poi dopo il 10 giugno ho staccato una settimana completamente, ho resettato il cervello e ho detto, ok, adesso ho sei settimane per allenarmi veramente, non devo studiare, non devo fare nient'altro, non ci sono gare. Perché poi il problema è anche, è vero, ho fatto la laurea ad aprile, ma poi ho gareggiato fino a giugno e quindi non potevo allenarmi. Perché se ti alleni poi non vai forte. Quindi poi ho fatto sei settimane di allenamento vero, 30 ore a settimana per la prima volta e tutto veramente di concentrazione. È stata la prima volta che mi sono allenata da professionista, davvero. Dormivo, mangiavo, mi allenavo, fine, era quella la giornata. E mi piaceva, nel senso, non mi sto lamentando, anzi, è stato molto bello. E quindi a fine di quello stage, che poi sono stati a Livigno, diciamo, ho detto, ok, adesso non è che voglio vedere subito i risultati di quello che ho fatto, perché non è che sei settimane ti danno un'impennata incredibile, no? Però voglio sentirmi meglio in gara, perché poi mi sentivo proprio male anche in gara, no? E il primo full che ho fatto, il primo extra che ho fatto è andato male. E infatti ho detto... Non sono servite, avrei pensato. Ho buttato tutto nel cesso. Poi il giorno dopo in realtà lo short track già stavo meglio. Nel senso che già inizio stagione, quando facevo full e short track, il giorno dopo ero morta. Non riuscivo a fare due gare vicine. Invece lì ho fatto il full, che non mi sono sentita bene, e il giorno dopo ho fatto lo short track e stavo bene. E quindi già è stata una vittoria. La settimana dopo invece ho fatto sia il full bene comunque, soprattutto la bici, che è quella che mi era mancata un po' nella prima parte di stagione, e lo short track anche bene. E quindi già lì ho dato un po' di morale. E questo due settimane dopo che avevo smesso, diciamo, da Livigno. Lì poi ho fatto ancora un po' un carico, però un po' anche mi sono riposata e tutto. Il campionato europeo a inizio settembre mi sono sentita molto bene. In realtà sono andata anche forte, effettivamente ho notato forte, sono andata forte in bici e ho corso forte. E quindi lì si sono visti un po' dopo un mese che effettivamente avevo finito il carico, che stavo meglio. E la stessa cosa è successo al mondiale. Abbiamo anche un po' capito che dopo l'altura ho bisogno di almeno un mese per assimilare il lavoro fatto, o comunque tre settimane, diciamo. E quindi poi la seconda parte di stagione è andata bene. Però ho avuto il mio momento buio anche dopo la laurea, comunque. Non è stato così facile. E voglio dire, sarebbe stupendo se fosse sempre così. Cioè, momento difficile e poi hai vinto l'europeo. Cioè, cavolo, che cosa hai provato quando sei salita sul podio e hai vinto la medaglia? Ok, tu sei un'atleta che punta a vincere la World Cup, quindi non dico che l'europeo è di una categoria inferiore. No, però vincere l'europeo è l'europeo. È sempre l'europeo. Che cosa hai provato? Cioè, hai capito che probabilmente è quella frase fatta che è dai momenti difficili che si impara. Sì, comunque che il lavoro paga sempre, quello sì. Il lavoro comunque paga sempre, perché effettivamente ti alleni, ti fai il culo. Magari non arrivano subito i risultati, perché adesso magari faccio un inverno nella professionista, mi alleno tantissimo e non li vedo subito i risultati. Magari li vedi tra due anni. Cioè, esempio, la mia compagna è la mia compagna di squadra ed è anche la mia migliore amica. Lei è francese e nel 2019 lei si è infortunata o meglio è andata in overtraining. Non ne poteva più di allenarsi, è stata ferma tipo cinque mesi. Lei quest'anno ha vinto la World Cup ed è tre anni che ci lavora, che fa tre anni, 35 ore a settimana. Il primo anno, l'anno scorso, ha fatto delle gare molto belle, delle gare di merda. Quest'anno ha fatto una stagione incredibile. E quindi stare lì due, tre anni, crederci. Purtroppo anche il corpo non si abitua subito a fare 30-35 ore a settimana. Cioè, magari io vorrei, no? Perché se no io non mi vedresti con neanche un filo di grazia. No, vabbè, però arrivi magari alla seconda, terza settimana e che dici, figa, ma la prossima settimana devo fare ancora il lavoro in bici o alla soglia, al martedì, albio, due max. Cioè, è dura comunque, quasi più mentalmente che fisicamente. Perché poi alla fine il fisico, è vero, va avanti. Ma mentalmente quando dici, stamattina ho fatto il lavoro a nuoto, oggi pomeriggio devo fare quello in bici. Ma che cazzo me lo fa fare? Certo. Nel senso... Ti voglio chiedere due cose, prima poi di andare a chiudere questa bellissima chiacchierata. E ti ringrazio. Grazie a te. È il podcast che hai fatto così. Cioè, questo è un miso tra un podcast e un intervista. E mi piace come tu ti stai approcciando a questa cosa. È un po' la prima volta che mi trovo veramente a chiacchierare, proprio in maniera libera, ecco, con uno spettacolo. Che tra l'altro non ti conoscevo, quindi... No, è fatica. Spettacolo. Hai detto che tu, come migliore amica, hai una tua avversaria. Sì, è vero. Prima cosa, com'è possibile questa amicizia che va al di là della rivalità sportiva? Come è nata questa amicizia? Come fai ad esserci così amica nonostante poi inconoscire alla partenza? Io credo che in generale siamo due persone probabilmente intelligenti, questo non lo so. Però lei è una persona che è molto capace ad ascoltare e a non giudicare. Nel senso, lei è veramente capace a darti un consiglio, ma non dirti, devi prendere quella strada lì perché sennò fai un disastro. E adesso dirti bene come mai siamo diventate così amiche non lo so se c'è stato un momento. Perché in realtà il primo anno che sono entrata nel team ho fatto, non un po' fatica, però era un po' strano perché non parlavo francese, quindi erano tutti francesi e è stato un po' complicato. Invece poi dall'anno scorso ho cominciato a imparare il francese e non so bene come mai ci siamo legate e niente. Quindi in realtà siamo diventate amiche. Forse, non lo so, cominciare a dirci anche poi i segreti, che poi non sono segreti, no? Però le cose, parlarci delle cose... In confidenza. Sì, un po' più intime e tutto. E vedere che dall'altra parte non c'è un giudizio ma c'è un ascolto, no? È stato, credo, che sia stato quello per entrambe la cosa che ci ha un po' legato. Poi ci trovavo molto bene, nel senso... Poi è bello perché lei è bionda, quindi si chiama la bionda e la mora. È bionda e alta, quindi a volte può essere, potrebbe essere mia mamma. Però, cioè, lo scorso weekend siamo andati insieme a Parigi a vedere il concerto della Disney per il cento anni. Nel senso, due anni fa non avrei mai detto che sarei andata con Alizé a Parigi a fare una vacanza tra donne. Nel senso, però non saprei bene cosa ci ha legato. A noi, cioè, noi abbiamo tante foto all'arrivo che ci abbracciamo perché che arrivo prima io, che arrivo prima lei. Siamo sempre contenti, sono contenta per lei che abbia vinto. Che bello. E lei credo che sia contenta per me, comunque, cioè, ne sono abbastanza certa, nel senso, non abbiamo mai litigato in gara. Ma, comunque, se ci troviamo insieme, anche a nuoto, cerchiamo di non pensarci, nel senso, c'è rispetto in gara, comunque, anche se siamo avversarie. Poi, ovviamente, una volta una vince, l'altra volta una non vince. L'anno scorso l'Ix era Francia, quando io ho vinto, lei ha fatto terza. Però non è cambiato niente. La cosa che mi stupisce è che tu stai parlando in questa tranquillità di gare di Coppa del Mondo. Cioè, non so, tu sei la Sofia Goggia, no, per intenderci, del Triathlon Cross, e lei sarà, non Alice Vaughn perché è svizzera, è americana, non so, la Ragut che è svizzera, vabbè. E, quindi, voglio dire, cioè, essere amiche, così tanto amiche, a quei livelli, è bello. Cioè, credo che sia un valore da trasmettere a tutti gli appassionati dello sport. In generale, abbiamo, posso dire, secondo me, che abbiamo veramente un bell'atmosfera nell'Ix Terra. Nell'Ix Terra, sì, nell'Ix Terra proprio, siamo tutti abbastanza amici comunque. Poi c'è quella che ti sta un po' meno simpatica, però, in generale, tutti cerchiamo comunque di creare una bella atmosfera tra di noi. Perché poi, alla fine, nel senso, ci vediamo tanto tempo durante l'estate. Sì, e sarebbe brutto, secondo me, se devi passare una settimana con delle persone in cui c'è solo rivalità, che non ti parli quando sei a cena insieme. Nel senso, perché? Perché puoi rendere tutto più bello, alla fine è il tuo lavoro. Puoi renderlo veramente il lavoro più bello del mondo? Perché no? Nel senso. E quindi, cioè, per dire, l'altra ragazza italiana, si chiama Sandra, e lei è molto amica con un'altra, invece, che siamo tutte amiche, ci conosciamo, però loro sono più legate, tipo me e Alisee. E adesso, non so se questo weekend o il prossimo, va al matrimonio dell'altra nostra amica, che si chiama Loanne, che si sposa in Svizzera. Ora lei parte dall'Italia per andare a vedere il suo matrimonio. Che bello. E quindi, è bello. Quindi vedi che poi alla fine torna, cioè, sono belle persone. Sì, esatto, esatto. Quindi Alisee è una bella persona, cioè, rientra all'interno della categoria delle belle persone. Esatto. Un'ultima cosa, poi andiamo a chiudere, è come ti prepari a livello mentale per una stagione? Nel senso, quando tu hai detto, studiavo, hai fatto una laurea, un percorso di studi in geologia, hai detto, e io ho pensato, cavolo, ma come può una persona studiare, fare la laurea, fare la tesi, adesso non so neanche più parlare perché ho dimenticato quello che è stata la mia vita universitaria, e gareggiare in una competizione ai livelli a cui tu gareggi, mi sembra una cosa, tra virgolette, impossibile. Quindi quando poi hai detto, una volta che mi sono laureata e che quindi hai avuto quel momento di difficoltà e poi dopo sei arrivata a vincere un europeo, mi è venuto un po' da pensare a questa immagine come se tu ti fossi levata a uno zaino pesante da addosso e fossi finalmente libera mentalmente di concentrarti solo sulle gare. Quindi il discorso di dirti come ti prepari mentalmente è un po' quello. Cioè come riesci a pensare esclusivamente alle gare, a essere sempre pronta? Allora, noi comunque con il mio allenatore, in questo periodo, facciamo una programmazione per l'anno perché comunque è importante mettere giù almeno le gare più importanti, almeno le sette World Cup, bisogna sapere quando sono, preparare i viaggi, preparare gli appartamenti, perché anche quello è complicato. E quindi mettiamo giù le tappe più importanti e poi mano a mano aggiungiamo, non so, magari ci serve una gara di preparazione specifica, tipo un duotro magari a inizio stagione per dare un po' di ritmo gara, la metti dentro come allenamento. Però quello si fa mano a mano, invece in questo periodo si fa una sorta di planning dell'anno, fino a fine anno, dove metterai dentro i periodi di gare, dove sei focus sulle gare, invece i periodi di allenamenti, dove sei focus sugli allenamenti. Perché a volte sono quasi più importanti i periodi dove dici, devo stare focalizzato due mesi, perché devo soffrire due mesi come un cane, perché poi mi tornerà per tutta la stagione. E ci devi credere in questa cosa? Sì, assolutamente. Perché se lo mandassi tutti a cagare non lo faresti. No, faccio un esempio, ciao Michele, scusa. Però a Livigno eravamo con Michele, appunto mio compagno di squadra, anche lui, che è allenato dal mio stesso allenatore, abbiamo fatto quattro settimane a Livigno. Lui l'ultima settimana era veramente, ma veramente in difficoltà, nel senso che... A livello fisico? Mentale, a livello mentale, nel senso che cominciava a fare fatica fisicamente e quando cominciano a rispondere più benissimo al corpo che sei stanco, che magari devi fare le ripetute, magari una giornata un po' così, non è bellissimo, e dici, ah però io oggi devo fare le ripetute, non ce la faccio. Diventa dura la situazione Michele, che forse non era ancora così pronto a fare l'elite, la quarta settimana mi ricordo che mi dice, ah io non ne posso più, voglio andare a casa. Perché non ce la faceva più reggere mentalmente il carico di allenamento. È per questo che dico che bisogna arrivare mentalmente pronti a dire devo fare quattro settimane veramente bene, poi ne ho una di scarico, invento, e poi riprendo. E anche quello è duro, nel senso è complicato e bisogna pensarci. E pensi che sia un po' anche l'esperienza che ti porta poi a gestire queste situazioni? Sì, sicuramente. Io tre anni fa non sarei mai stata in grado di fare un ragionamento del genere o di gestire un carico da quattro settimane. E quindi è anche una crescita, sia mentale che fisica, però poi nel senso se fai 30 ore a 20 anni magari ti fai un infortunio. Quindi lì è la bravura dell'allenatore anche. Vogliamo dare un nome a questo uomo? Questo uomo? Perché come si chiama? Si chiama Stefano. Ciao Stefano. Ciao Stefano, non hai Instagram. Non hai Instagram, è molto negativa, però si deve iscrivervi al canale. Va bene. Con tutti i tuoi amici, dai. Io diciamo, assolutamente. Iscrivetevi tutti al canale. Esatto, esatto. No, ok. Ma invece chiudendo questa chiacchierata ti voglio chiedere come ti vedi l'anno prossimo, quindi quali obiettivi hai, anche se è una domanda che può essere banale, perché mi dirai appunto a vincere, però quale può anche essere l'obiettivo futuro? Mi sono già mi facesse una domanda tipo come ti vedi tra dieci anni e io ti dicevo non lo so, non mi vedo. Vedo nero. Perché sono cieca, però no. Vedo nero. Al di là del prossimo anno ti credo anche proprio c'è il futuro, nel senso, cioè ti piacerebbe rimanere a lavorare nell'ambito sportivo, però prima rispondimi sul prossimo anno che mi interessa. Allora, il prossimo anno mi piacerebbe essere consistente durante tutta la stagione, nel senso... Perché poi scusami se ti interrompo, io non ho ancora detto, ma tu hai concluso quarta nella World Cup. Sì, sì. Perché io non l'ho ancora detto, dando per... Sì, con tutte le peripezie dell'anno è andato bene comunque, nel senso, poteva andare peggio. Però diciamo che mi piacerebbe essere consistente l'anno prossimo su tutte le World Cup, nel senso, un obiettivo che mi piacerebbe è fare podio a ogni World Cup, che non è così scontato. E quindi un piazzamento, un podio, un World Cup mi piacerebbe molto. Come mi piacerebbe fare un podio al Mondiale. Diciamo che sono un po' i due obiettivi, essere consistente durante la stagione, quindi essere sempre lì davanti nelle posizioni che contano e quindi ambire un podio. stessa cosa al Mondiale. Poi ci sono i due appuntamenti che sono gli europei e il Mondiale invece di federazione, che comunque sono due titoli. Che ti piacerebbe portare a casa. Sì, sì, sicuramente questi sono un po' i quattro obiettivi stagionali. Quindi in bocca al lupo per questi due obiettivi. Grazie. E invece per il futuro un po' più lontano, non tra dieci anni, in generale. Non lo so. Ti mette ansia? Molta, molta ansia. Allora non ne parliamo. Non lo so. Tra dieci anni ti inviterò di nuovo. E vediamo a che punto. Magari farai, non so, l'infermiera così a caso. Che spiega di no. Speriamo di no. Salutiamo l'infermiera. Ciao. No, davvero. Non lo so, nel senso che mi piacerebbe adesso qualche anno effettivamente fare l'atleta e vedere come va. Nel senso che vedere se effettivamente può funzionare come lavoro. Perché è un po' una scommessa. Nel senso, dopo la laurea ho detto, ok, mi do due o tre anni, vedo se posso effettivamente farlo perché ho un ritorno, effettivamente posso farlo. Oppure se non è fattibile e a quel punto penserò o a trovarmi un lavoro e ritornare a studiare oppure trovare un lavoro. Non lo so. Nel senso, sono un po' questi due scenari. Se andrà bene il triathlon mi piacerebbe fare effettivamente l'atleta professionista fino a quando potrò, fino a quando vorrò. Poi magari, io penso sempre che la vita ti porti a volte delle opportunità che in questo momento io non posso veramente dirti. Certo. E io a quello ci credo tanto, effettivamente. Bellissimo. Oppure altro scenario, è stato bello questa avventura, fare due o tre anni da atleta, girare il mondo, fare il lavoro più bello del mondo, però non ha funzionato, trovo un lavoro, torno a studiare, a geologia. Ok. Però so che questa è l'ultima, ma faccio una in extremis, tempi supplementari. Il mio allenatore mi dice sempre che questa è l'ultima ripetuta, poi ce ne tengo un'altra. Non ci hai perso la fiducia nelle persone, quando ti dicono questa è l'ultima tu non ci credi, in generale. Esatto. No, ma non ti girano un po' le palle del fatto che sport come la mountain bike, come il triathlon, la corsa, tutta la varia atletica leggera, ginnastica artistica, sono sport dove ci sono meno soldi, un po' perché se il calcio, il basket secondo me già ce ne sono, un po' di soldi girano, quindi uno che fa un atleta professionista in Serie A, secondo me poi può campare tutta la vita, grazie a quello che ha guadagnato giustamente nella sua carriera da atleta. Però a me dispiace quando vedo atleti come te, che sei in un campionato del mondo, sei nei primi cinque e devi fare questo discorso, vedrò come va, magari puoi torno a fare la geologia, che magari poi ti strappassione e lo farai comunque, però il fatto che quella sia un'opzione a me farebbe incazzare. Sì, però il fatto è che non posso farci niente. Eh, ma esatto, cosa vuol dire non posso farci niente? C'è margine di... A me piacerebbe, allora, io tutto quello che guadagno in generale lo guadagno dai premi. Ok. Quindi se vado forte vivo, se non vado forte non mangio. Ok. E perché quello che forse mi fa incazzare di più è che tu scrivi agli sponsor, vuoi parlare con gli sponsor, ma gli sponsor non esistono, non abbiamo soldi da darti, non possiamo aiutarti, non ci interessa, eh, niente. Io, il mio unico sponsor che ho è Scott, grazie a Dio che c'è, nel senso grazie che ci siete, che siete così gentili e credete in me, perché sennò è troppo complicato trovare qualcuno che ti aiuti, soprattutto economicamente, a fare quello che fai. Però è, non lo so, a volte mi viene da pensare, se fossi un atleta di uno sport, tra virgolette, di nicchia, che poi di nicchia non so cosa significhi, cosa potrei fare? Cioè, per esempio, io seguo un atleta di bici, si chiama Torquato Testa, che è un atleta di freestyle, che ha aperto un canale YouTube e adesso conta circa 400.000 iscritti e ha nettamente alzato l'attenzione sullo sport della mountain bike. Quando vanno a fare eventi in giro per Italia è pieno di ragazzini, qua vada è pieno di bambini che lo seguono, abbiamo fatto un evento qua vada, lui è venuto ospite e ho detto, cavolo, lui è riuscito a portare più attenzione su uno sport che non veniva minimamente calcolato e adesso lui guadagna bene da questa cosa. Però, poi io non so se nel vostro sport si può fare una cosa del genere, c'è qualcuno che lo fa. Allora, Alixter ha investito molto negli ultimi anni nella visibilità, nel senso che agli short track ci sono sempre le dirette, quindi tu volendo puoi seguire la diretta streaming è gratuita e quindi secondo me quello già ha aiutato tantissimo, stanno spingendo tanto sui social. Però comunicazione, sì, ho visto. Però si fa fatica, cioè sicuramente ci vuole tempo perché anche lì come l'allenamento non è che due giorni dopo che ti sei allenato sei in forma, però è complicato, o meglio, lo vedo più facile per crescere Alixterra piuttosto che crescere come persona singola per me. Certo. Perché? Però se vuoi ti posso insegnare a usare la camera e quando vai a fare le gare puoi fare un vlog e poi ti apri un canale YouTube e diventi la nuova influencer del triathlon course. Non so se alla gente ti interesserebbe comunque vedere. Perché dici di no? A me già interesserebbe. Hai già un iscritto. Abbiamo un po' di aprile. No, perché è questo che dico, se ci fosse qualcuno, magari non ti dico te però, che fa vedere anche un po' il backstage, no? Fa vedere, racconta, poi tu hai un bel modo. Già hai fatti il tuo profilo, io ho invito tutte le persone che non ti seguono a seguirti perché io me lo sono un po' spulciato il tuo profilo ed è bello perché viene fuori quello che ti ho detto all'inizio, cioè che lo sport che fai è fatto di belle persone, racconti le fatiche, è bello. Quindi essere portavoce di uno sport e così, secondo me, è veramente figo. Il problema, parlo ai miei pochi follower che ho, nel senso che poi ne ho pochi, avrò 2500 follower, credo che è niente oggi, è che a me piace molto avere un profilo vero, come ce l'ho, nel senso non fare solo post dove dico ah oggi ho vinto questo, oggi ho fatto questo, mi piace anche mettere il post che ieri sono andata a Parigi perché mi piace Parigi, nel senso perché mi piace essere una persona vera sui social, ma a me sembra, cioè io vedo tante persone che hanno magari tanti follower, siano persone che mettono solo quello che le persone vogliono vedere. Esatto, e quello purtroppo ha centrato una delle cose più difficili, secondo me, degli ultimi tempi, cioè che se tu fai il comico e una volta porti un contenuto che non è una battuta, non è una scenetta, la gente non interagisce con quel contenuto. Però, non lo so, pensaci. Ci penso. Io ti posso dare una mano. Va bene, andata. Ti darò una mano a diventare la Chiara Ferragni del Triathlon Cross. Poi dividiamo i guadagni, se guadagniamo come Chiara Ferragni, guarda, dividiamo pure che va bene anche la metà. No, davvero, ti auguro comunque di riuscire a raggiungere i tuoi sogni. Grazie. Più imminenti, più lontani, qualunque si siano. Grazie davvero per essere venuta qua. Grazie a te. Spero che ti sia piaciuto. Sì, molto. Di tuo gradimento. E chissà che magari un domani verrò a fare qualche video. Potresti venire comunque a vedere, insomma, a raccontare un po' il dietro alle quinte e magari a darti un accappatoio tra il nuoto e la bici. Grazie, sei molto gentile. Magari il phon, i tuoi capelli, cosa dici? Gli ho tagliati apposta, così non devo più phonarli. Quindi magari posso essere utile anche in quello. Esatto. Grazie mille. Grazie, grazie a te. Ragazzi, grazie per essere rimasti qui con noi fino a questo momento. Come sempre vi invito a iscrivervi al canale, lasciare un commento e a condividere questo video con tutti i vostri amici. E noi ci vediamo lunedì prossimo per un prossimo video. Ciao. Ciao.